E alla fine è arrivato il tanto e temuto nubifraggio che ieri ha colpito la provincia di Ragusa, causando i soliti noti problemi di allagamenti. Strade come fiumi in piena a causa del maltempo, come era nelle previsioni meteo scandita dall'allerta Grado Arancione, ha colpito intensamente Ragusa, ma anche Modica e Pozzallo. Una macchina, forse a caso del fango che ha invaso la carreggiata, è finita fuoristrada, ribaltandosi sulla Ragusa Mare. Il conducente è stato soccorso in ambulanza e condotto in ospedale. Il nubifraggio ha interessato anche la zona industriale di Ragusa, dove due auto, una Smart e una Mercedes, sono rimaste in panne, letteralmente semisommerse dall'acqua mista a fango che ha invaso la carreggiata. I conducenti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Pioggia intensa e strada allagata anche lungo tutto il litorale. Più critica la situazione a Pozzallo è nella frazione ciclitana di San Pieri.